Ciao a tutti, io sono Emma e oggi siamo a Montjové in Valle d'Aosta. Va in scena la prima edizione di sculture con motosega, Speed Carving. Mi accompagnano i miei nuovi amici Pandora e Nata. Andiamo! Vediamo live come nascono le opere d'arte dai trocchi milenio. Al prossimo episodio Corrado Clerici è un artigiano d'alfrini e mi ha spiegato che per intagliare il legno bisogna lavorare con pazienza con un scalpello in una mano e un marzolo nell'altra e non avere mai una mano libera perché altrimenti ti puoi ferire La scultura di Corrado rappresenta il vestire di una volta, il boscaiolo Tra le sculture presenti vediamo anche i tipici tatà Questa è una tatà mucca, questa è il tatà cavalino I tatà erano uno dei pochi giocattoli in legno che possedevano i pipi valdostani Questa cinghiale di legno ha pure un messaggio Nulla è scontato Questa è la grolla E questo è un altro oggetto tipico della volle d'orosta, la coppa dell'amicizia E questi sono i miei preferiti, i portachiavi Adesso me ne scelgo uno che finirà poi sulla mia cartella di scuola Ho scelto la marmotta A presto A presto A presto